Musica Fiat Punto si capovolge in un incidente sulla strada provinciale 38 Bliz della polizia in un lido di Petrosino Grosso incendio ieri nella riserva Lago Preole e Gorghi Tondi di Mazzara Nuove rotte per Napoli e Tirana dall'aeroporto di Trapani Birgi Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG8 Informazione Apriamo subito con la cronaca Si continua ad indagare sulla morte del dipendente dell'impresa Edile Che stava realizzando lavori di manutenzione nella chiesa di San Giuseppe del Carminello Luca Guastella di 52 anni, ricordiamolo, deceduto martedì Dopo essere precipitato da un'altezza di una decina di metri Dopo che il tetto della chiesa in ristrutturazione è sprofondato improvvisamente I funerali dell'operaio si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 Presso la chiesa madre di Alcama Ad ufficiare le segui il vescovo Pietro Maria Fragnelli Continuiamo con la cronaca Deteneva Mariana in casa, rinvenuta durante i controlli da parte della sezione radiomobile di Castelvetrano Che ha provveduto ad arrestare Alessandro Spanò di 35 anni, castelvetranese Noto già alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti L'arresto è avvenuto lo scorso 29 luglio E torniamo a Mazzara Un incidente fortunatamente senza conseguenze per i conducenti Avvenuto sulla strada provinciale 38 Poteva avere certamente conseguenze molto tragiche L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20.40 Presso la strada provinciale 38 Che collega Mazzara del Vallo a Torretta Granitola Nel tratto della stessa litoranea Precedente all'incrocio con la strada provinciale 66 Provenendo da Mazzara A circa 3 km da Torretta Granitola Una Fiat Punto condotta da un ragazzo di circa 20 anni È sbandata ed infine si è addirittura capovolta Fortunatamente lo stesso ragazzo è uscito dall'abitacolo praticamente illeso Sul luogo dell'incidente si sono fermati alcuni passanti Che tornavano a casa dopo essere stati al mare nelle diverse cale Che caratterizzano quella parte di costa est di Mazzara del Vallo Il ragazzo è apparso in buone condizioni anche se in stato confusionale Probabilmente a provocare l'incidente potrebbe essere stata all'alta velocità E forse chissà l'utilizzo del telefonino mentre si trovava alla guida Oppure uno stato di ebrezza dovuto all'assunzione di alcolici Ad ogni modo il ragazzo è stato molto fortunato a non subire conseguenze fisiche Dal ribaltamento dell'auto Altra fortuna che in quel momento in senso opposto non arrivava nessun veicolo Ricordiamo che la strada provinciale 38 è ancora interessata da lavori di messa in sicurezza E di illuminazione che sono ripresi da pochi mesi I fondali che circondano la penisola italiana riservano ancora molte sorprese Lo riserva la scoperta di sei vulcani sottomarini a pochi chilometri dalla costa della Sicilia Sud occidentale tra Mazzara del Vallo e Sciacca Il ritrovamento si deve all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale Nel corso di due campagne condotte a bordo della nave da ricerca OGS Explora Lo studio pubblicato dalla rivista Marine Geology Ha confermato le precedenti ipotesi della presenza di tre vulcani E ne ha individuati altri tre Uno dei quali è a soli 7 chilometri dalla costa E un blitz della polizia in un lido di Petrosino che non aveva le licenze per le serate danzanti Lo scorso fine settimana gli uomini della divisione di polizia amministrativa della questore di Trapani Nell'ambito di mirati servizi di controllo sono stati protagonisti di un blitz presso un lido balneare di Petrosino La struttura per l'occasione trasformata in una vera e propria discoteca Con luci tipiche da sala da ballo e musica ad alto volume Emessa da un'apparecchiatura elettroacustica gestita da un DJ Ospitava una serata danzante cui avevano presa parte circa 700 avventori Tutti molto giovani che avevano pagato un biglietto di 7 euro Il locale però è risultato sprovvisto di qualsiasi condizione di sicurezza E' stato infatti accertato che la struttura è autorizzata soltanto per l'esercizio dell'attività di somministrazione Al pubblico di alimenti e bevande E quindi non dispone della licenza di pubblica sicurezza necessaria per lo svolgimento di serate danzanti Essendo priva peraltro anche dell'agibilità di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza Sui pubblici spettacoli che si esprime solo a seguito di una serie di verifiche riguardanti la solidità del locale La sicurezza ed il rispetto della specifica normativa Verificato che non risultava rispettata alcuna condizione per la sicurezza dei partecipanti allo spettacolo musicale Gli operatori intervenuti hanno intimato la cessazione dell'attività e il deflusso dei giovani avventori Il gestore è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver aperto un locale di pubblico spettacolo Senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica E sanzionato per le violazioni di natura amministrativo rilevate Ed è dello scorso 26 luglio una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativo Siciliano Che dà ragione alla Eco Burgus La Eco Burgus era una ditta che in un primo momento aveva vinto il servizio di raccolta rifiuti La città di Mazzara del Vallo Ma che fu esclusa dalla loro amministrazione per dei problemi riguardanti la ditta capofila di quel raggruppamento La Senesi Il servizio venne affidato alla seconda ditta che è quella che per ora gestisce il servizio di rifiuti a Mazzara del Vallo La TEC Ma dopo la sentenza di primo grado del TAR che aveva confermato la giudicazione alla TEC Che il CGA ha sovvertito tale decisione e quindi nei prossimi giorni scopriremo quelle che sono le posizioni dell'amministrazione E quindi entreremo maggiormente nei dettagli in quella che è una sentenza che sembra davvero non porre la parola fine Su una questione rifiuti che per motivi diversi e diversificati ogni volta torna a far parlare di sé E parliamo anche di belle notizie Continuano gli appuntamenti con i treni storici del Gusto Domenica 4 agosto dalla stazione di Trapani partirà il treno bio e delle mini di Virgine Conne fermate a Paceco, Marsala, Mazzara del Vallo e con arrivo a Castelvetrano Da qui in bus si proseguirà presso Santa Margherita Bellice Dopo un giro della cittadina, sempre in bus, si raggiungerà il borgo di Sambuca di Sicilia E ieri molti a Mazzara avranno visto il fumo nero che avanzava dall'altezza dei Gorghi Tondi Lago Preola e proprio un vastissimo incendio si è realizzato e divampato in quelle zone Un incendio si è sviluppato verso le ore 17.30 di ieri pomeriggio presso la riserva Lago Preola e Gorghi Tondi E ha impiegato diversi uomini e mezzi nel suo spegnimento Per domare le fiamme, che hanno aggredito circa 5 ettari di canneti, macchia mediterranea e boschiva Sul costone lato sud del Lago Preola sono intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco Una di Mazzara e una della provincia I Vigili Urbani coordinati dal Comandante Salvatore Coppolino Personale e volontari del WWF, ente gestore della riserva Uomini della forestale di Castelvetrano e del Servizio Antincendio Boschivo della Regione Che ha impegnato anche due elicotteri provenienti da Trapani E dotati di cestello che nell'opera di spegnimento hanno utilizzato l'acqua prelevata dal lago Le alte colonne di fumo che si sono elevate sono state viste da diversi chilometri di distanza Eppure in città Le unità impegnate hanno circoscritto e domato l'incendio Ma rimangono ancora da controllare i piccoli focolai e completare l'opera di spegnimento Resa complessa dal vento che soffiava a quell'ora E dal fatto che le zone interessate dall'incendio erano su un terreno difficile da raggiungere con mezzi antincendio Sulla natura dell'incendio non vi sono indicazioni anche se i fenomeni di autocombustione sono decisamente molto rari E quindi la probabilità che sia doloso o colposo sono molto elevate E' stato chiuso e murato definitivamente uno degli scarichi fognari principali e dei più vecchi Che ancora si metteva nel fiume Mazzaro all'altezza di piazza Regina I reflui adesso sono stati convogliati alla condotta principale che si collega al depuratore di Contrada Boccarena Questo è uno degli interventi che consentirà nel giro di pochi mesi di chiudere effettivamente gli scarichi ancora presenti sul fiume Mazzaro E quanto ha detto il sindaco della città Salvatore Quince annunciando proprio la conclusione degli interventi di chiusura Di uno degli scarichi del fognari sul fiume Mazzaro E andiamo avanti, ci spostiamo a Partanna Si terrà domani 2 agosto in occasione della festa dell'emigrante Sicilian Day Giunta la sua 14esima edizione in piazza Falcone Borsellina a Partanna Si tratta di una sfilata di carretti siciliani curati dalla Proloco locale Ben quattro carretti trainati da cavalli partiranno alle ore 18 da piazza Domenico Graffeo Durante il Sicilian Day inoltre vi sarà la possibilità di degustare prodotti tipici siciliani E di guardare spettacoli folcloristici E torniamo a parlare dell'aeroporto Trapani-Birgi Due nuove tratte per Napoli e Tirana Nuove rotte per manager ed imprenditori dall'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi Verso la Campania e l'Albania Dal 20 settembre, ogni lunedì e venerdì infatti Il turboelica Hello Fly Virtual Airline Maltese Che opera in collaborazione con il vettore Estone Volerà da Trapani-Birgi alla volta di Napoli-Capodichino Per poi proseguire verso l'aeroporto di Tirana A renderlo noto è il presidente di Airgest, società di gestione dello scalo trapanese L'avvocato Paolo Angius Sarà un aeromobile Saab 340 da 33 posti Quello con cui Hello Fly ha scelto come base Trapani Farà il suo debutto nei cieli italiani per collegare la Sicilia all'Albania e alla Campania Volare verso Napoli costerà 69 euro, tasse incluse, con la promozione Lancio Catering rigorosamente siciliano incluso E la possibilità di portare con sé in cabina un bagaglio a mano di 8 kg Imbarcando gratuitamente in stiva un collo da 15 kg Per Tirana invece la tariffa di partenza di sola andata sarà di 120 euro, sempre tasse incluse La programmazione bisettimanale è già promossa sul sito della compagnia HelloFly.it Ci auguriamo, commenta il neo direttore dell'aeroporto Michele Buffo Che le rotte Hello Fly possano stimolare nuove occasioni di business ed incoming leisure Con collegamenti dedicati al mondo delle imprese Airgest contribuirà fornendo qualità e puntualità dei servizi E riservando tariffe particolarmente scontate ai passeggeri Hello Fly per il parcheggio di auto in aeroporto Da oggi nel comprensorio trapanese è possibile prenotare in tempo reale le visite specialistiche direttamente in farmacia L'azienda sanitaria provinciale di Trapani infatti ha attivato un centro unificato di prenotazioni Presso la farmacia Stallone a Custonaci, bambina d'Alcamo, dello stadio Aerice Questa possibilità, detto il direttore generale dell'ASP di Trapani, Fabio Damiani È stata resa possibile anche grazie alla disponibilità dei farmacisti coinvolti E rappresenta un servizio innovativo dal punto di vista dell'organizzazione dell'offerta sanitaria E dell'accesso alla prenotazione Si ricorda inoltre che un servizio CUP è stato anche attivato all'interno degli uffici del municipio di Poggio Reale E di San Vito, Lo Capo E rimaniamo incentrati sull'ASP È stata pubblicata la graduatoria del concorso anestesisti Sicilia Occidentale Finita dall'ASP Trapani la graduatoria del concorso per dirigenti medici di anestesia e rianimazione Per le aziende sanitarie del bacino della Sicilia Occidentale L'elenco dei vincitori è pubblicato nell'apposita sezione del sito www.asptrapani.it Sono 134 gli specialisti che hanno superato la procedura concorsuale per titoli ed esami Svolta dopo la conclusione della mobilità volontaria Secondo quanto previsto dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Il 27 luglio 2018 e quello della Repubblica Italiana il successivo 28 agosto La procedura è stata gestita dall'azienda sanitaria provinciale di Trapani In quanto capofila del bacino occidentale Nei prossimi giorni si procederà all'approvazione degli atti della Commissione E quindi all'assegnazione delle sedie ai vincitori Che secondo l'ordine di graduatoria saranno chiamati ad esprimere la propria opzione Soddisfazione ha espresso il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale Fabio Damiani Per il lavoro svolto e la rapidità in cui è stato definito un concorso così articolato Si sono incontrati stamattina al Palazzo Comunale Il sindaco della città Salvatore Quinci e gli organizzatori della quarta edizione Corriamo a lungomare a favore della LILD Oltre al sindaco Quinci e rappresentanti della LILD Pino Pomili e Claudia Passalacqua Era anche presente il presidente della quinta commissione consigliare Stefania Marasce Il sindaco ha applaudito per l'iniziativa E ha invitato tutti i cittadini ovviamente a iscriversi a questa passeggiata non competitiva Che si svolgerà martedì 6 agosto alle ore 20 e 30 E il ricavato ovviamente andrà alla ricerca contro i tumori E ancora musica domenica 4 agosto dalle 16 fino al tramonto Sul lungomare Dante Lighieri di Trapani al Beach Bar Isla Blanca Ci sarà la nona edizione di Love Family Beach Una manifestazione che da 9 anni ormai ogni prima domenica di agosto Coinvolge molti tra i più importanti musicisti della provincia E che fondono le loro note con le proposte musicali ed innovative dei DJ Un appuntamento sicuramente da non mancare Quello della Isla Blanca Love Family Beach E adesso vi lascio con un ricordo dell'onorevole Bartolo Pellegrino Venuto a mancare proprio alcuni giorni fa Questa è l'ultima notizia del nostro DG Noi ci rivediamo puntuali domani alle ore 14 Il leone ha smesso di ruggire dopo 85 e primavera Spirito combattivo, criticato, odiato, amato, apprezzato Bartolo Pellegrino era certamente una figura complessa O lo intuivi subito che politicamente non era una scartina O non riuscivi a capirlo mai Bartolo Pellegrino era la politica Ha rappresentato nel male e nel bene Come tutti coloro con attributi per cimentarsi in qualcosa La politica della provincia di Trapani Quella politica orgogliosamente di prima repubblica Fatta di passione, segreterie, vivaio, di correnti, aggregazioni Presente tutto l'anno sul territorio E non quella che ai giorni nostri Si ritrova attorno ad un'insegna civica Pochi mesi prima delle recasse al voto Per portare avanti interessi comuni a pochi Potremmo definirlo tutto e il contrario di tutto Ma certamente un politico capace di portare avanti le proprie idee Ho convinzioni nella consapevolezza a volte di andare incontro a sconfitte elettorali Deputato al Parlamento regionale per più legislature Vicepresidente a Palazzo d'Orlean Assessore siciliano al bilancio finanze e al territorio ambiente Il suo primo ingresso a Palazzo dei Normanni Per Pellegrino avvenne nel 1971 frutto di 6.488 preferenze E con il PSI, Partito Socialista Italiano Eletto nel Collegio di Trapani La seconda volta a vent'anni di distanza da quella data Ma stavolta con oltre 11.000 voti Riconfermato nel 1996 Ad aprile del 2001 Fonde insieme ad ex PSI E del Partito Siciliano d'Azione Il Partito Regionalista Nuova Sicilia Vantando il merito dopo decenni Di rilanciare lo spirito autonomistico isolano Che sembrava essersi smarrito Nel corso dei lustri precedenti Bartolo Pellegrino era nato a Trapani Il 26 ottobre del 1934 Ma era attaccatissimo alla sua Guarrato Trazione a 10 km dalla città trapanese Per quell'enfasi oratoria che veniva fuori Quando tuonava nei comizi di piazza elettorali Si era guadagnato fin dal giovanissimo L'appellativo politico Che gli rimase incollato fino alla fine Leone di Guarrato Il governatore della Sicilia Nello Musumeci Definendolo convinto autonomista Ha affidato ad una nota stampa il suo pensiero Affermando come nella sua lunga e travagliata esperienza Di deputato regionale e di governo Bartolo Pellegrino è stato uno dei personaggi di spicco Della nostra storia politica Alla famiglia, conclude Busumeci Il più profondo cordoglio mio personale e del governo Alla famiglia è stato uno dei personaggi di piccoli